Perché scegliere www.affordableartpoint.com? Per almeno 7 motivi. Ne andiamo a vedere insieme. Punto primo, perché il nostro non è un sito qualunque, un sito normale. È un portale e-commerce ottimizzato con il SEO marketing. Punto due, perché all'interno del nostro sito, accanto agli artisti emergenti e accuratamente selezionati, potrete trovare una vasta gamma di artisti internazionali. Manzoni, Burri, Castellani, Bonalumi, Gilardi, St. Francis, Herman Nitsch e tanti altri ancora. Punto tre, perché collaboriamo con il famoso gruppo Orler, che vanta una clientela tra le più importanti in tutta Italia. Punto quattro, abbiamo uno staff professionale, completo, efficiente, registi, curatori, blogger, un personale specializzato in social media marketing, venditori, presentatori, in grado di soddisfare ogni vostra esigenza e di dare la massima visibilità ai nostri artisti. Punto cinque, abbiamo quattro importantissime gallerie ed altri punti espositivi dove ovviamente organizziamo mostre ed eventi artistici. Punto sei, operiamo all'interno di importantissime piattaforme multimediali, ovvero un intero canale streaming, grazie al quale possiamo trasmettere in diretta le nostre trasmissioni, pagine social ottimizzate, blog e tanto altro ancora. E infine, c'è una grandissima novità, abbiamo un centralino personale di telemarketing, grazie al quale chiamiamo personalmente la nostra clientela per proporre le nostre opere. E quindi cosa aspetti?